buongiorno a tutti in questo video daremo una overview della visione che tipico a per il mondo analytics e vedremo insieme alcuni dei prodotti tipo che fanno parte della nostra offerta questa chiacchierata durerà circa 30 minuti e vedremo insieme un po tutto lo spettro analytics per farlo partiamo dalla domanda cardine che ci introduce nel nostro percorso che cos'è l'analytics attualmente siamo in un mondo dove abbiamo sempre più dati a nostra disposizione che provengono da una quantità di sorgenti che è sempre maggiore insieme a questo anche la tecnologia evolve e sta diventando sempre più veloce e meno costoso avere accesso a grandi mole di dati complesse ma la domanda di fondo rimane sempre la stessa come posso sfruttare al meglio i miei dati per ottimizzare il mio business questo si traduce in pratica nell'utilizzare i miei dati per capire che cosa è successo nel passato perché è successo cosa succederà e quali azioni posso fare e queste domande descrivono in pratica il percorso con diversi livelli di maturità dove tipo è presente con diversi prodotti a seconda delle esigenze iniziamo dal cuore di questa visione analytics alla base di tutto abbiamo i dati la loro preparazione la loro gestione e poter avere un punto di accesso virtuale unificato su tutte le sorgenti è una questione molto spesso chiave per poter sfruttare al meglio i nostri asset di dati tipico dv o tipico data virtualization è quindi il fondamento il punto di partenza del nostro percorso di analytics avendo un'unica visione completa e affidabile dei nostri dati vorremmo iniziare a sfruttarli ad esempio possiamo aggiungere delle attività di data wrangling se necessario costruire dei cruscotti con kpi per il management oppure fare della veloce data discovery ad hoc per avere subito delle risposte a precise domande o anche fare un'analisi più avanzata come quella predittiva o geolocalizzata spotfire qui è chiave in questo percorso di maturità ora avendo questi strumenti a disposizione si tende a spingere la profondità delle analisi e quindi diventa naturale aggiungere tecniche avanzate di analisi come ad esempio il machine learning e qui tipico ha un insieme di prodotti per soddisfare questo bisogno a seconda delle diverse esigenze il contesto è cloud on premises le sorgenti sono basi di dati tradizionali o infrastrutture big data o magari una combinazione di queste come spesso succede in situazioni ibride infine finiremo la nostra carrellata con un esempio che ci permette di unire un po tutti i puntini di questo percorso analytics fatto attraverso le tecnologie tipico ora guardiamo questo viaggio nel mondo analytics che abbiamo appena percorso ma da un diverso punto di vista lo stesso percorso possiamo vedere lo step by step partendo da un business case passando per la data preparation la data exploration per arrivare poi alle prime rappresentazioni per poi proseguire naturalmente verso l'advance analytics e arrivare poi alla fine alla possibilità di far scatenare azioni magari real time è importante avere una buona conoscenza del contesto di business e dello use case in cui ci muoviamo indipendentemente dall'ambito o dalla industria in cui si lavora è essenziale identificare e conoscere lo use case relativo ai dati che vogliamo analizzare può essere l'incremento di produttività la riduzione di pezzi in oggi usciti l'incremento della soddisfazione dei clienti il tasso di abbandono dei miei clienti non è importante quale sia il singolo use case l'importante è che i dati saranno sempre il punto di partenza di tutto e quindi proprio per questo non solo la quantità di dati può essere di difficile gestione ma anche il fatto che questi dati possono essere sparsi in diversi silos all'interno dell'azienda cosa che tipicamente succede magari sono anche diversi tecnologicamente database relazionali file excel sorgenti big data servizi cloud quindi la preparazione la gestione la virtualizzazione dei dati è funzionale ad un migliore sfruttamento degli asset di dati e ci aiuta ad avere un'unica fotografia di che cosa accade nell'azienda quello che gli americani chiamano la single version of the truth un unico accesso che mi garantisca consistenza integrità sicurezza per applicare qualunque analytics ai dati quindi una volta che sia un un unico punto di accesso ai dati aziendali che può essere utilizzato per vari fini in tutta l'azienda possiamo continuare iniziando a creare delle visualizzazioni utili alle nostre analisi perciò la prima cosa che facciamo è poter aggiungere o da questo unico punto di accesso ai dati oppure collegandoci direttamente alle sorgenti i dati all'interno di spotfire e spotfire nativamente supporta vari sorgenti di dati si parte dai file semplici a database relazionali soluzioni cloud soluzioni on premises infrastrutture big data come potete vedere ce ne sono varie supportate a questo punto una volta che io ho i dati li voglio rappresentare in modo da conoscere innanzitutto i dati con cui mi trovo a lavorare quindi oltre alle prime rappresentazioni tabellari che posso fare o sulla sinistra il data panel che mi permette di capire quali colonne o all'interno della mia tabella di che categoria sono i miei dati se sono numeri se sono categorie se sono date se sono posizioni geografiche quindi a questo punto io già ho delle informazioni sulle categorie dei dati e se voglio dei dettagli sulle singole colonne posso cliccare sulla colonna e espandere il data panel a questo punto delle informazioni più di dettaglio ho un istogramma che mi rappresenta la distribuzione dei dati delle informazioni iniziali statistiche che mi aiutano a comprendere la distribuzione posso vedere come è categorizzata la colonna posso cambiare il data type se ho bisogno di modificarlo successivamente la formattazione insomma una serie di attività che sono le classiche attività utili quando io devo modificare la presentazione dei dati ai fini delle visualizzazioni altre classiche operazioni che si possono fare sono quelle legate al mondo del data frangling appunto quindi se io ho bisogno ad esempio nel caso abbia una colonna con più parole poterla splittare in varie colonne ognuna con una parola o direttamente la possibilità di farlo tramite questo bottone per cui posso splittare la colonna automaticamente mi viene presentata questa finestra in cui mi viene suggerito un separatore il numero di colonne che voglio creare se ho la necessità di rimuovere dei caratteri in queste colonne e automaticamente mi viene data una preview del risultato finale in questo modo posso vedere se la configurazione che ho fatto all'interno di questa finestra effettivamente risponde alle mie necessità per cui tutte queste operazioni è possibile farle nativamente all'interno del prodotto con molta semplicità ipotizziamo adesso di voler creare delle nostre visualizzazioni e magari non so esattamente qual è la visualizzazione migliore per poter rappresentare i miei dati un histogramma una mappa un grafico a torta per cui posso chiedere a spotfire di farmi suggerire delle delle visualizzazioni per cui iniziamo subito con delle visualizzazioni raccomandate io posso selezionare dalle mie colonne quelle di interesse che voglio inserire all'interno dell'analisi e vediamo che spotfire mi suggerisce delle visualizzazioni in particolare io ho selezionato due informazioni legate alla location quindi sono coordinate geografiche e mi viene presentata una visualizzazione a mappa che probabilmente mi è utile per la mia rappresentazione per cui raggiungo la mia analisi e quindi ho inserito la prima visualizzazione tutto ciò che riguarda le visualizzazioni è altamente customizzabile vi faccio un esempio posso ad esempio aggiungere dimensioni di analisi nelle mie visualizzazioni se io prendo questa colonna operator che rappresenta la società che gestisce pozzi in questo caso parliamo di pozzi energetici possiamo prendere questa dimensione e poterla spostare all'interno dell'analisi per cui io posso utilizzare la funzionalità color by per cui colorare secondo questa dimensione i vari marker i vari pallini che sono presenti all'interno della visualizzazione posso fare un size by per cui posso dimensionare la grandezza dei marker a seconda della dimensione uno shake by dare la forma ai marker rispetto alla dimensione di analisi che sto trascinando capite che ci sono varie customizzazioni che posso fare ad esempio facendo un color by possiamo vedere come tutti questi pozzi vengono colorati a seconda della società di gestione che ha in carico la gestione del pozzo detto questo tipicamente quando io ho delle visualizzazioni voglio indagare ulteriormente ciò che mi viene presentato per cui una cosa che posso fare è fare un drill down per cui avere un dettaglio su singole selezioni o singole aree che voglio indagare ulteriormente e questo lo posso fare nativamente all'interno del prodotto in modo molto semplice posso ad esempio disegnare come potete vedere un'area quindi selezionare alcuni di questi di questi pozzi e tramite un click fare una detail visualization quindi creare una visualizzazione di dettaglio collegata alla selezione che appena fatto mi viene presentata e a questo punto la posso customizzare secondo quello che mi può interessare quindi posso ad esempio avere lo spaccato per gli ultimi circa 15 anni del numero di pozzi che sono presenti all'interno del mio territorio e della produzione di gas che è presente e della produzione di acqua a questo punto questa visualizzazione posso customizzarla a seconda delle mie esigenze quindi posso cliccare sul pannello delle proprietà e configurare ulteriormente la mia visualizzazione posso ad esempio cambiare la numerazione sull'asse delle y avere una notazione che mi permette meglio di comprendere i miei dati posso ad esempio avere scale multiple in modo da uniformare al meglio i miei dati posso decidere che la scala che mi rappresenta i numeri si trovi sulla sinistra e tutto ciò che rappresenta gli andamenti invece siano sulla destra ugualmente i numeri vorrei lasciarli come histogrammi mentre invece gli andamenti vorrei rappresentarli con delle linee che probabilmente meglio mi rendono l'idea a questo punto una volta che configuro la mia visualizzazione per come la voglio ottenere posso riarrangiare tutta quanta tutta la mia analisi per cui io posso inserire altre visualizzazioni posso ulteriormente cambiare magari colori per rendere il tutto più uniforme da questo punto di vista c'è una grande capacità di customizzazione e quindi vedete come con pochi click e in qualche minuto di tempo è possibile creare dei veri e propri cuscotti come questo abbiamo una rappresentazione ad esempio di un'analisi in cui partiamo da informazioni molto generali dei kpi qui abbiamo la rappresentazione numerica di alcuni indicatori di performance importanti anche qui il colore ha una semantica per cui a seconda del valore viene colorato di conseguenza il kpi e da qui posso scendere nel dettaglio e raggiungere una serie di visualizzazioni drill down dettagli che mi aiutano ad indagare meglio i miei fenomeni di business a questo punto capite che praticamente solo la fantasia può dare limite a quello che è possibile realizzare in spotfire vediamo qui una collezione di visualizzazioni che è possibile realizzare in spotfire e che come avete visto sono realizzabili facilmente e configurabili con un numero minimo di click perciò ritorniamo alla nostra figura generale adesso abbiamo i dati li abbiamo in una modalità utile per le nostre analisi abbiamo creato le prime dashboard che ci permettono di rispondere alle domande che abbiamo e possiamo spingerci quindi a questo punto è oltre le prime funzionalità out of the box ed esplorare alcune funzionalità avanzate come ad esempio la possibilità di vedere le relazioni tra i dati perciò aggiungiamo alla nostra discussione il mondo dei modelli i modelli sono una modalità per rappresentare la realtà che ci circonda sono un qualcosa di analitico che mi descrive i fenomeni per me di interesse e quindi proviamo a crearne uno in spotfire posso creare dei modelli direttamente dal menu tools e vedete che qui già vengono presentate una serie di funzionalità di analisi avanzate che sono legate alla creazione di modelli e in generale a funzionalità statistiche avanzate se volessimo ad esempio creare una data relationship vediamo che abbiamo la possibilità di crearla direttamente per cui posso dire innanzitutto qual è la tabella su cui voglio fare questa data relationship posso dare un nome a questa elaborazione scegliere a seconda del tipo di dati con cui ho a che fare se ho colonne numeriche o categoriche una combinazione di entrambe o il relativo metodo di calcolo collegato e quindi in questo caso posso poi andare a selezionare le colonne che voglio aggiungere sulle ordinate quali sulle ascisse e quindi cliccando ok sostanzialmente ottengo un risultato di questo tipo per cui avrò una tabella con una serie di informazioni statistiche importanti come visualizzazioni che mi rappresentano la distribuzione dei dati e una funzione di fitting del modello tutto quello che vediamo è già disponibile tramite spot fire ed è possibile customizzarlo come sempre come abbiamo visto fino ad adesso ad esempio se io volessi andare nelle proprietà posso tramite il pannello lines and curves posso aggiungere ad esempio un nuovo modello di fitting qui in questo caso abbiamo scelto una retta di cui vediamo in questo caso i coefficienti rappresentati ma se volessi posso anche utilizzare una curva diversa per fitting può essere utile sapere che in ogni momento io posso sempre far riferimento all'help contestuale che mi aiuta in tutte le configurazioni ad esempio in questo caso cliccando vediamo già che appunto il menu è contestuale per cui ci troviamo direttamente nella nostra nella parte di help che riguarda la configurazione che stiamo facendo e quindi di conseguenza posso andare a vedere i dettagli e capire come poter configurare al meglio tutti quanti i parametri al fine di ottenere effettivamente il risultato voluto quindi a questo punto posso ulteriormente configurare le mie visualizzazioni un altro tipico un'altra tipica attività che viene fatta per quanto riguarda funzionalità avanzate è la predizione quindi dei forecast legati all'andamento futuro dei miei dati per cui quello che posso fare come potete vedere in questa visualizzazione di un trend semplicemente con un click posso aggiungere un forecast per cui avrò il fitting della curva e questa funzione che mi rappresenta la previsione statistica per la previsione temporale del dell'andamento della curva notate come tutte le funzionalità statistiche avanzate che inseriamo all'interno delle visualizzazioni dialogano continuamente con le attività dell'utente mi spiego meglio nel caso in cui facciamo una selezione per un drill down o come in questo caso vogliamo modificare i filtri tutto quanto rispecchia le attività dell'utente per cui se io aggiungo ad esempio un nuovo trend anche questo viene rappresentato e viene modellato sulla mia visualizzazione se invece decido di rappresentarne uno solo o tutte e due posso appunto come vedete far sì che tutto quanto quello che io analizzo rispecchi di conseguenza quello che seleziono tutte le attività che faccio quindi a questo punto possiamo vedere come in tutti i casi possiamo utilizzare effettivamente funzionalità avanzate funzionalità out of the box come il forecast e altri ma abbiamo visto che tramite il pannello delle proprietà è comunque possibile cambiare e fare delle customizzazioni per rispondere effettivamente alle mie necessità di business abbiamo visto le abbiamo visto le prime funzionalità avanzate vogliamo spingerci ancora oltre in profondità nelle nostre analisi e quindi a questo punto iniziamo ad abbracciare i concetti che ci vengono dal mondo del machine learning in modo da crescere sempre di più in complessità di analisi ma soprattutto di maturità nei benefici che ci può apportare un'analisi di questo tipo e uno strumento come spotfire applicando le varie tecniche e algoritmi come ad esempio quelli che vengono dal machine learning alcuni algoritmi noti sono quelli ad esempio del key means nel caso in cui voglia fare un clustering oppure degli alberi di classificazione ce ne sono tanti che come vediamo sono già a disposizione nativamente all'interno di spotfire e come abbiamo visto sono l'utente è guidato nella creazione di questi modelli in modo da facilitarne l'implementazione vi faccio vedere un altro esempio da questo punto di vista come vedete sempre in modo molto semplice è possibile creare in una visualizzazione un clustering in particolare il key means clustering e quindi vediamo ad esempio uno spaccato delle dei vari impianti disseminati sul territorio che sono stati clasterizzati in base alle informazioni geografiche del territorio come vedete tutte queste visualizzazioni l'avrete già notato probabilmente dialogano tra di loro per cui se io faccio una selezione di una parte o di tutte quante le informazioni queste mi vengono rappresentate all'interno anche delle altre visualizzazioni per cui vedo anche le correlazioni tra le diverse visualizzazioni come un'informazione selezionata in una visualizzazione viene rappresentata ugualmente in un'altra forma in un'altra visualizzazione e quindi a questo punto vi mostro altri esempi che hanno diciamo come pilastro fondamentale di analisi il machine learning abbiamo appena visto un esempio in particolare il key means clustering con la clasterizzazione di pozzi a seconda dei dati sulla geologia del territorio potremmo rappresentare ad esempio una mappa di organizzazione per un'analisi geochimica oppure possiamo utilizzare il natural language generation per distribuire i valori dei risultati e poter interpretare i dati possiamo utilizzare la weibull analysis per misurare la disponibilità di macchinari questo non è legato solo a ambiti simili a quello energy che abbiamo appena visto ma possono spaziare su vertical anche molto lontani se vogliamo fare un'analisi di customer segmentation oppure di product affinity vedete che possono essere anche analisi molto diverse legate anche al all'analisi di frodi finanziare quindi anche case più complessi o analisi di gbm di customer behavior per ambiti più diversi a questo proposito vi faccio vedere il tibco exchange tibco exchange è la sezione principale della tibco community della community tibco dove è possibile trovare una serie di artefatti pre lavorati template data function una serie di funzionalità che sono a disposizione per poter essere utilizzati all'interno dei nostri prodotti io già ho filtrato qui per come prodotti come prodotto tibco spot fire in modo da vedere del materiale appunto a disposizione per il nostro prodotto e vedete come ci sono già delle soluzioni anche articolate che è possibile scaricare per utilizzare direttamente all'interno dei nostri prodotti queste soluzioni sono liberamente scaricabili potete cliccare su una di queste e avere i dettagli oltre ovviamente al link per poter scaricare i file necessari per poter essere utilizzati all'interno dei nostri prodotti bene andiamo avanti ancora nella nostra analisi e proviamo a spingerci ulteriormente per applicare il mondo matematico statistico avanzato ai nostri dati possiamo dire in generale che per fare lo step ulteriore abbiamo due approcci possibili uno legato più al codice diciamo potremmo dire uno sviluppo legato alla programmazione che può essere una scelta possibile oppure una seconda legata più a un disegno di un workflow su che mette insieme una serie di attività per poterle collegare in un flusso in un workflow applicativo di gestione dei dati presentiamole tutte e due la prima quindi l'approccio diciamo legato al mondo della programmazione se è questa la scelta preferita una nota utile da sapere è che spotfire può interagire con diversi linguaggi di elaborazione incluso l'er open source e una buona notizia su questo tema su questo tema è che tipico possiede il terro che sta per tipico enterprise runtime for ar che ci permette di astrarre da tutti i concetti legati alla sicurezza del server alla scalabilità del deployment ma allo stesso tempo ci permette sempre di riutilizzare tutto quello che le comunità open source che sono ormai presenti a livello di globale condivido online continuamente tutti i giorni a disposizione degli utenti per cui all'interno di spotfire è possibile inserire direttamente l'algoritmo in vari linguaggi e collegarlo ai dati vi faccio vedere come è possibile farlo tramite questa register data function io do un nome alla funzione posso selezionare il tipo di linguaggio che sto utilizzando eventuali altre informazioni e a questo punto inserisco direttamente lo script del codice che voglio far elaborare e collegarlo tramite i parametri di input e di output direttamente ai dati che sono presenti all'interno di spotfire vi faccio vedere a questo punto un esempio per farvi vedere in azione il nostro terra ci spostiamo in un esempio che è legato alla teoria della quable analysis in particolare cosa voglio fare voglio analizzare i dati storici legati alla produzione all'interno di un impianto manufatturiero e vedere come posso prevenire la sostanzialmente la rottura di alcuni componenti o il malfunzionamento di alcuni macchinari in modo da poter minimizzare sostanzialmente i costi legati alla manutenzione per cui che cosa posso fare allora innanzitutto parto come sempre dai miei dati e provo a vedere quali sono le informazioni principali per cui voglio ad esempio uno spaccato di rotture o in generale di malfunzionamenti legati ai miei pezzi posso selezionare quelli di analisi vado a vedere quali sono gli item con i componenti vado a vedere appunto un dettaglio ulteriore per arrivare fino alla descrizione di dei vari malfunzionamenti che si sono verificati all'interno dei miei impianti per cui come sempre partiamo dai dati facciamo una prima analisi per avere una fotografia della situazione e a questo punto una volta che io ho i dati posso applicare tutto quello che il mondo della statistica in particolare tramite la web un analysis mi permette di utilizzare per cui utilizzando dei modelli avanzati matematico statistici posso sfruttare tutta questa conoscenza all'interno di questo prodotto quindi innanzitutto creo delle visualizzazioni che mi permettono di rappresentare i miei dati secondo questo modello e quindi realizzo delle visualizzazioni come questa quindi non solo visualizzazioni tecniche ma anche come dire gradevoli da vedere per poter rappresentare i miei fenomeni come vedete una delle possibilità è anche quella di poter inserire dei parametri e cliccando sul bottone poter ricalcolare le varie curve in modo da poter direttamente inserire dei parametri tramite l'interfaccia utente passatemi l'espressione e quindi a questo punto io posso intervenire sfruttando completamente la teoria e quindi avere dei benefici da un tipo di analisi di questo tipo inserendo questi parametri e cliccando su le compiute nel momento in cui voglio voglio effettivamente calcolare e far eseguire i calcoli a spotfire io ad esempio con questi parametri ottengo che il pezzo di analisi la componente che sto effettivamente studiando in questo momento ha bisogno di una manutenzione fatta ogni in questo caso 16,15 mesi in modo da minimizzare i costi legati alla maintenance su questa su questo pezzo e minimizzare le possibili rotture e fallimenti della mia del mio macchinario e quindi avere un balance corretto che mi possa portare al massimo i benefici per cui questo è un esempio del primo approccio vi faccio vedere il codice che c'è dietro a questo punto se noi andiamo a vedere le data function che sono presenti all'interno di questa analisi vediamo come eccolo qui questo è il codice che è stato inserito all'interno dell'analisi che poi ha permesso la generazione di tutte queste visualizzazioni questo è un codice che è stato preso inizialmente dalla comunità open source è stato successivamente customizzato da un data scientist molte realtà ormai hanno dei data scientist che magari customizzano i modelli a seconda delle necessità aziendali e quindi permettono un'analisi effettivamente customizzata il più possibile per il contesto di business e quindi vedete come direttamente posso inserire all'interno del prodotto il codice vedete come anche semplicemente posso aiutare gli utenti inserendo i parametri tramite una forma e cliccando su un bottone posso andare a rieseguire tutto quanto il modello non devo inserirlo direttamente nel codice anche questa è una funzionalità utile da sottolineare per l'utilizzo di spotfire a questo punto abbiamo visto quello che abbiamo chiamato il primo approccio alla codice quindi utilizzando direttamente codice che viene inserito all'interno di spotfire non è l'unica modalità con cui è possibile utilizzare la nostra piattaforma in particolare adesso andiamo a vedere la seconda quella che viene utilizzata da quelli che gli analisti chiamano i citizen data scientist quindi figure che si trovano più a loro agio con lavorare a lavorare con un approccio che non è strettamente legato al codice ma è legato a un approccio di questo tipo vi presento a questo punto statistica statistica è un prodotto che permette di prendere dati da sottoline diverse incluso ovviamente spotfire ed aiuta a risolvere dei problemi anche molto complessi utilizzando le oltre 16 mila funzionalità che sono a disposizione nativamente all'interno del prodotto per poter applicare il machine learning ai propri dati sostanzialmente abbiamo a disposizione un canvas una superficie dove andiamo a posizionare tutte queste attività attività prese dai vari menu e quindi possiamo effettivamente disegnare un workflow di trasformazioni modelli da applicare ai dati che poi mi portano al risultato finale ve lo mostro live in modo da essere più chiaro quindi vedete che abbiamo la possibilità di disegnare il nostro workflow tutte queste attività vengono da tutte queste funzionalità che mi vengono messe a disposizione direttamente dal dal prodotto per cui tutti quanti i modelli è possibile inserirli direttamente all'interno del canvas qui qual è il nostro contesto dopo aver fatto tutte le attività di preparazione dei dati ed eventualmente aggiunto attività di data wrangling e data cleansing sui dati ho a disposizione un dataset che è pronto per essere utilizzato per fare analytics avanzato in statistica è possibile leggere come dicevamo dati direttamente da spotfire visto che già una serie di attività le avevo fatte prima posso andare a leggere direttamente da spotfire come anche volendo dalle sorgenti direttamente e quindi posso effettuare una serie di operazioni rimandare anche il risultato sul direttamente spotfire in modo da poter interagire direttamente in entrambe le direzioni con il nostro prodotto e quindi abbiamo a disposizione qui nel nodo finale una rappresentazione che come vediamo è lo stesso identico risultato che avevamo prima nella rappresentazione fatta all'interno di spotfire quindi tutto il workflow che abbiamo disegnato è equivalente al codice terra della webull analysis che abbiamo visto prima ma questo viene fatto attraverso un diagramma in cui abbiamo queste piccole icone che rappresentano delle attività che vengono effettuate all'interno dei dati che sono connesse tra di loro per realizzare un vero e proprio workflow sui dati e quindi prendiamo i dati da spotfire generiamo il modello della webull con i parametri e possiamo facilmente modificare in caso di necessità per cui se io voglio modificare i dati lo posso fare direttamente dal prodotto non utilizzando codice arcoded e quindi vedete che viene facilitata tutta la configurazione di questi modelli a questo punto possiamo tornare alla nostra analisi e facciamo uno step ulteriore iniziamo a parlare del mondo big data che succede se voglio applicare tutte queste metodologie di machine learning e di predictive analytics a dati che risiedono su piattaforme come ad up come spark le cosiddette big data platform qui entra in gioco la piattaforma tibco spotfire data science questa piattaforma viene utilizzata in organizzazioni che vogliono analizzare una quantità molto grande di dati che magari viene dal web dal mobile dall'aiot e insieme a dati già posseduti all'interno di database tradizionali permette di avere un approccio che è simile a quello che abbiamo già visto canvas una superficie dove disegno workflow e inserisco le attività ma qui l'orientamento è rivolto a dati più massivi e complessi è un'applicazione completamente web based offre caratteristiche di collaboration e social utili a team con diversi attori in gioco supporta vari deployment supporta il cloud l'on premises e deploy deployment hybrid quindi questa piattaforma è in grado di sfruttare il potere delle piattaforme big data direttamente mettere in risalto la scalabilità per il machine learning e le modalità per ridurre la complessità delle tecnologie big data supportando la collaboration fra data scientist utenti di business figure a iot in modo semplice quindi per anche confrontare queste due questi due approcci che abbiamo visto fino ad adesso tico quindi offre soluzioni sia per team di data science di data scientist che preferiscono muoversi in un raggio d'azione legato al codice legato allo scripting sia team cross funzionali che vogliono collaborare lavorando su big data in un un unico ambiente condiviso e gestito in modo appropriato a questo punto stiamo arrivando alla parte finale del nostro percorso e vogliamo applicare quindi tutto quello che abbiamo imparato fino a qui su dai dai nostri dati storici a dati e sorgenti che fluiscono in real time in questo modo la possibilità di poter fare azioni in modo immediato per contrastare ad esempio eventi imprevisti che potrebbero portarmi conseguenze negative al mio business quindi a questo punto vediamo un esempio che ci permetta di come dire unire tutti i puntini che ci faccia vedere tutto quanto il percorso che abbiamo coperto fino ad adesso dall'inizio alla fine prendiamo in particolare questo esempio di equipment reliability vediamo questo use case che parla in particolare del mondo oil and gas tutto parte dai dati come ci siamo detti e in questo caso stiamo ricevendo dati da impianti esp ovvero da pompe elettriche a immersione in particolare da sensori distribuiti su queste pompe infatti grazie ai dati storici abbiamo definito un modello che ci ha permesso poi successivamente di definire delle regole che possono essere applicate in real time in motori real time come in questo caso tipo streambase quello che succede è che ogni volta che i valori rilevati dai sensori vanno oltre delle soglie che sono state definite dal modello oppure si verificano delle condizioni che abbiamo identificato grazie ai dati storici al modello statistico viene inviata ad esempio una notifica al personale del field sul territorio in modo da poter intraprendere delle azioni manutentive che prevengano degli interventi altrimenti molto più costosi di riparazione possiamo quindi a questo punto vedere come è possibile rappresentare all'interno di spotfire delle visualizzazioni in real time in movimento quindi che riguardano dati in streaming questi dati vengono da sensori come possiamo vedere quindi possiamo arrivare anche al singolo dettaglio della sorgente per cui riguardando un po tutto quanto e fare la quadra di tutto il nostro ragionamento come sempre abbiamo definito il nostro use case e qual è il nostro obiettivo partiamo dai dati e partiamo dal business problem per cui devo aver chiaro qual è lo use case e qual è il tipo di analisi che voglio fare a questo punto creo le prime visualizzazioni che mi permettono innanzitutto di indagare i fenomeni che stanno accadendo e a questo punto posso utilizzare utilizzare tecniche di analisi avanzate legate al mondo del machine learning e della statistica avanzata che mi permettono di identificare ad esempio dei pattern legati ai fenomeni che sto analizzando in questo caso voglio analizzare delle rotture o dei malfunzionamenti all'interno delle mie componenti vedo che ci sono degli andamenti in particolare di pressione che seguono un certo pattern prima di portarmi a un malfunzionamento per cui per me questo è fondamentale perché una volta che io ho identificato i pattern come possiamo vedere in questo caso io posso ho trovato un modello che mi descrive quando ho una rottura e se applico a un motore real time come possiamo vedere come stream base queste informazioni posso effettivamente vedere in real time visualizzazioni come questa che mi fanno vedere come nei vari impianti mi vengono mostrate delle situazioni critiche che voglio analizzare ulteriormente oppure vorrei in real time inviare delle delle notifiche al personale del field in modo da prendere delle azioni e sostanzialmente ridurre dei comportamenti non voluti quindi con questo esempio concludiamo tutta quanta la nostra chiacchierata che ci siamo fatti sul sul nostro percorso sul mondo analytics sui prodotti che tipico a nel suo portfoglio e che offre ai suoi clienti grazie mille